Scusate No, non è fatto bene! No, non è fatto bene! Quanto la dieta è fatta a scurdo! Oh, non capire! Oh, che fai? Ma che cazzo ti ha fatto? Oh, che fai? Oh, che fai? Che fai? Che fai? Non sono passando un video con un cuore! Oh, non! Oh, che fai? 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 No... No! Che fai? Che fai? Che fai? Che fai which fai? Che fai? Ok... Che fai… Che fai? Eげ? Grazie a tutti.